Ecologo Giuseppe Raspadori che nei giorni scorsi ha criticato la troppa arbitrarietà con cui talvolta la giustizia sottrae i figli ai genitori. Una questione che travalica i confini regionali. Il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani di Trento ha organizzato per domani una manifestazione di protesta a Bologna dove due genitori sono andati a riprendersi una bambina in un istituto di suore. In Italia ha denunciato i bambini sottratti sono 32.355 invece in Trentino. Non c'è solo la bambina sottratta alla madre indigente o il piccolo strappato a scuola dalle braccia della genitrice e rea di soffocarlo con troppo amore. Sono tanti i troppi. Secondo il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani di Trento i casi di giustizia minorile troppo arbitraria che sottopone bambini e genitori a giudizi discrezionali basati su impressioni di assistenti sociali o analisi di psicologi che non sono supportate da episodi concreti di violenza o maltrattamento. A Merano ad esempio denuncia il CCDU. Ci sono stati i casi di un bambino sottratto al padre dopo che questo per riuscire ad avere un alloggio pubblico aveva dichiarato sul consiglio di un ufficio comunale di vivere in un garage. Un altro che stava per essere tolto alla sua famiglia per la denuncia di un vicino di casa nonostante tutti gli altri condomini fossero concordi sull'assoluta tranquillità del contesto familiare. Episodi che hanno in comune l'impossibilità per i genitori coinvolti di far valere le loro ragioni di fronte a un istituto al Tribunale dei Minori nato sotto il fascismo che fa sì che il giudice minorile sia al contempo organo giudicante e portatore dell'interesse del bambino con il potere di allontanare un minore dalla sua famiglia, certo in via cautelativa prima che la questione possa essere apertamente dibattuta ledendo così il diritto costituzionale alla difesa e al contraddittorio. Tragica conseguenza, negli ultimi dieci anni sono stati più di 500 i suicidi fra madri, padri e nonni a cui il Tribunale minorile aveva allontanato i bambini e succede anche che ci si faccia giustizia da soli come a Bologna dove pochi giorni fa una coppia ha rapito la figlia dall'istituto di suore a cui era stata assegnata. Proprio a Bologna il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani di Trento ha deciso di manifestare chiedendo una revisione della giustizia minorile come suggerito anche da un disegno di legge presentato nel 2000 che ancora giace a Roma in attesa di essere assegnato a una commissione parlamentare. La manifestazione è prevista lunedì 26 luglio fra le 9 e le 11 davanti al Tribunale dei Minori di Bologna in via del Pratello 36 dove si raccoglieranno anche firme per una petizione da presentare al Ministro per le Politiche della Famiglia. Cosa bisognerebbe fare per risolvere la situazione? Noi diciamo tre punti il primo punto è di sottrarre i bambini solo per casi gravi e con prove oggettive accertate il secondo punto è che le perizie dovrebbero avere solo valore di opinioni e non un accertamento della verità e il terzo punto è che i bambini vengono sottratti dopo il processo non prima. Torna a far parlare di sé la manovra finanziaria Tremonti questa volta a far preoccupare sono i tagli dei fondi che ogni anno Grazie a tutti